E' un leader politico tra i più conosciuti, ma è anche professore, insegna istituzioni di diritto romano alla sapienza e tutte le strade del mondo, si sa, portano a Roma. Imperatore Domiziano, grazie per l'esclusiva, cosa puoi dirci su questa ennesima inaugurazione dell'anfiteatro? Ci sarà un altro prollo? Sono certo che abbiamo finalmente risolto quei piccoli problemi strutturali, l'anfiteatro è perfettamente praticabile e sicuro, questa inaugurazione sarà un grande successo, vedrete. L'incontro di oggi è stato molto criticato, perché scegliere gladiatori di tutto il mondo e non solo romani per questo torneo? E perché non farlo? E' la globalizzazione, il mondo è sempre più piccolo e l'impero sempre più grande. Mio nipote Cassio è il favorito, puntate su di lui ragazzi! Ben arrivato Oliviero Diliberto. Grazie dell'invito e molti saluti a tutti quelli che ci ascoltano. E saranno pure cartoni animati, però ponevano con gioco un problema molto serio, l'attualità del diritto romano. Per spiegarlo sembra una cosa difficilissima, in realtà è facilissima, così come la lingua latina dopo che si è estinta ha dato vita a tante lingue neolatine, che sono l'italiano, il francese, lo spagnolo, il portoghese, il rumeno, il diritto romano si è estinto, ma ha dato vita a tanti diritti neuromani, compreso quello italiano naturalmente, che dominano completamente il mondo, tranne quello anglosassone, cioè Gran Bretagna e Stati Uniti d'America. Approfondiremo molto volentieri questo tema, intanto ricordo che lei è nato a Cagliari, segretario del Partito dei Comunisti Italiani, già Ministro della Giustizia, già deputato, ha detto di sé, la politica è la mia passione, insegnare è la professione che amo. Messo davanti al bivio che cosa sceglie? Ah, sicuramente l'insegnamento, non ho nessun dubbio, io ho continuato ad insegnare gratis per tutti gli anni in cui ero parlamentare, ho ottenuto il corso, ho fatto gli esami, ho fatto le tesi di laurea, non avrei mai potuto smettere di insegnare, è troppo bello. Ho letto di un nonno capo stazione, siccome siamo a prossima fermata, mi è rimasto impressa questa lettura, noi abbiamo da bambini sempre sognato i treni, lei li avrà vissuti in mani? E li ho vissuti anche perché una delle prime case era appunto una delle case delle ferrovie dello Stato, quando i ferrovieri erano trattati bene, insomma, prima della privatizzazione. E i bambini sognavano i treni, tutti quanti, mi guardavano con invidia, in realtà con i treni ci ho vissuto e non li amavo particolarmente anche perché, diciamo, viverci a fianco comporta dei problemini, ecco, è diverso che sognare i modellini della Riva Rossi. Invece il treno per Roma lei lo prende per specializzarsi proprio in diritto romano, mi piacerebbe che ci dicesse perché, come nasce questa passione, questo amore per storia antica e presente. Ma in realtà io non mi sarei dovuto iscrivere in giurisprudenza, confesso, io amavo l'archeologia, poi ho detto ma se faccio l'archeologo come campo? Mi sono laureato, poi ho iniziato gli studi, mi sono laureato in giurisprudenza, dentro agli studi di giurisprudenza ho scoperto che c'era anche la storia antica, perché c'era il diritto romano. E confesso una cosa che sanno i miei colleghi, io il primo giorno che ho fatto una lezione, il primo anno che era proprio la lezione di storia del diritto romano, io ho deciso che avrei fatto quel mestiere lì e ci sono riuscito, sono stato fortunato. Lei all'inizio accennava di questa universalità, che gli specialisti conoscono ma gli altri meno, di quello che è il diritto romano, ho letto e so che è arrivato addirittura in Cina e che lei è stato uno di questi artefici dell'adozione da parte della Cina del diritto non anglosassone ma romano, ci spieghi bene? Ma è una cosa anche questa che si può spiegare in modo molto facile, nel senso che i cinesi a un certo punto hanno aperto il mercato, cosa nota le quattro cosiddette modernizzazioni di Deng e cioè il pragmatismo al potere. Aprendo il mercato si sono posti il problema di avere delle regole, che prima non avevano bisogno di un codice civile, perché non c'era il mercato. Dovendo scegliere il modello hanno discusso lungamente dentro al gruppo dirigente e hanno scelto il modello romanistico, il nostro, non quello anglosassone. Uno dei motivi fondamentali è che nel frattempo, durante questa discussione, sino dal 1988, pensi prima di Tiananmen per capirci, un mio collega e mio grande amico, prima da solo, poi insieme a me, ha iniziato ad andare in Cina e a far tradurre i testi giuridici romani in cinese in modo tale che fossero fruibili. I cinesi hanno scelto il modello romanistico e nel frattempo è successa un'altra cosa, e cioè che io ero ministro della giustizia in Italia. E quindi ha potuto certificare la svolta? Sono il diritto romano, ministro della giustizia e, sto per dire una parolaccia, comunista. Quindi, tutte queste tre cose ai cinesi sono piaciute, si sono fidati e abbiamo dato vita a questa avventura pazzesca. La differenza sostanziale e brevissima tra modello anglosassone e diritto invece romano? Il diritto romano è codificato, c'è una legge scritta, il diritto anglosassone è fondato sui precedenti della giurisprudenza, cioè sulla decisione della corte. Ma lei ha imparato anche a leggere un po' di ideogrammi cinesi o sono loro che hanno imparato il latino? Loro hanno imparato prima l'italiano e poi il latino, sono pazzeschi. Quando io ho spiegato ai miei ragazzi, perché ho tanti studenti cinesi a Roma, oltre a quelli che ho a Pechino, che durante le vacanze di Natale la facoltà restava chiusa 21 giorni, mi hanno guardato come si guarda un marziano, ma giustamente, perché lì lavorano sul serio. Dall'antica Roma alla Roma politica dei nostri giorni per voltare pagina. Se dico non voglio far partire una legislatura sfregiata da nuovi scandali perché magari mettiamo le preferenze come non ci sono da 92, se dico non intendo che quella sera lì il mondo pensi che non c'è nessuno che può governare, se dico metà donne, se dico non ci riporti, ma stiamo parlando per il PD o stiamo parlando per l'Italia? Quello che noi abbiamo detto è che chi è stato in Parlamento per 15 anni, quello che poteva fare ha fatto. La rottamazione è dire che non è possibile cambiare il nome dei partiti, cambiare il logo dei partiti, cambiare il simbolo dei partiti, l'ulivo, la quercia, la margherita, deforestare con tutti i simboli e però mantenere sempre e soltanto le stesse facce a Roma. Noi abbiamo il dovere di rispondere a questa crisi non con la logica della bottega, delle percentuali di partito, dell'interesse, del calcolo degli uni o degli altri, abbiamo il dovere di guardare alla politica come allo strumento indispensabile per salvare l'Italia. Chi è stato il più comunicativo dei tre? Domanda maliziosa. No, Bersani sicuramente. Non Renzi? Ma io non sono sincero in questo. E' sincero nella risposta. Se Renzi dovesse vincere le primarie, lei lo sosterrà? Io credo che se Renzi dovesse vincere le primarie assalterebbe per primo il Partito Democratico. Si dovrebbe dare vita a qualcosa di diverso, però non credo che le vincerà. Voto siciliano, le due sorprese sono state l'astensione e il boom di Grillo. E' un fatto puramente siciliano o un anticipo del voto nazionale? No, io temo che sia un anticipo del voto nazionale e lo temo molto. D'altro canto, la migliore propaganda a favore dell'antipolitica la fanno i miei colleghi politici. Si comportano talmente male che alla fine è ovvio che la gente dice che fanno tutti schifo. E su questo ha ragione Renzi, quando dice che uno che ha fatto 15 anni quello che doveva fare lo ha fatto e non può fare altro, non dovrebbe fare altro. Io iniziavo a me stesso, nel 2008 non mi sono candidato. Ero 14 anni in Parlamento, avevo fatto 4 legislature, basta. Si è autorottamato. Mi sono autorottamato, è sempre meglio autorottamarsi che aspettare che siano gli altri a farlo. L'alleanza col centro di Casini è sbagliata o inevitabile? Secondo me è sbagliata perché di snaturamento e di snaturamento la sinistra ha finito per perdere se stessa, si allea prima con Tizio, poi con Cazzo, a fine si alleerà i confini, stanno sostenendo lo stesso governo con Berlusconi, il governo Monti è sostenuto da Bersani e oltre che Casini anche da Berlusconi, per poco, presumo ancora. Per poco, questa è proprio una domanda, o Monti succederà a se stesso? No, intendevo dire Berlusconi che appoggi Monti, per poco ancora credo. Io ho molta paura del Monti dopo Monti perché significherebbe un esproprio della democrazia. Se lei ci pensa Monti non è espressione del voto popolare, è un tecnico, è un tecnico che sta facendo scelte politiche piuttosto robuste, è riuscito a fare cose che Berlusconi in vent'anni non è riuscito a fare, ma senza rispondere agli elettori. Ha già detto che non si candida, dici io sono già senatore a vita, è un capito, ma l'ha nominato il Presidente della Repubblica, non è che il popolo il senatore. Però se non dovesse venire fuori una maggioranza forte e chiara dalle urne, come tutti prospettano? È probabile, infatti. Beh, si dovrà fare una maggioranza, più larga, ma politica. E perché di nuovo Monti? È favorevole alla conferma di Napolitano e Quirinale? No, ma non per Napolitano, perché credo che un settennato sia un tempo molto lungo e che sia giusto che ci sia un ricambio ai vertici dello Stato. Ero convinto di questa cosa anche per i precedenti Presidenti della Repubblica. È un equilibrio costituzionale, secondo me, che non va toccato. Il centrosinistra ha governato due volte, sette anni più o meno, negli ultimi 15. Quali sono, secondo lei, gli errori che non dovrebbe più commettere da quell'elezione? Beh, sono tanti gli errori che abbiamo fatto. Secondo me, l'errore più grave di tutti resta il 1998, quando Bertinotti allora decise di far cadere quello che io continuo a giudicare, il governo più a sinistra nelle condizioni date e nei rapporti di forza dati, più a sinistra della storia repubblicana, cioè il primo Prodi. Come vede, cito il primo Prodi, non quello di cui ho fatto parte io. Io ho fatto parte dei due governi d'Alema, ma erano più sbilanciati sul versante centrista. C'era Mastella, c'era Cossiga. Beh, aver fatto cadere quel governo e aver interrotto quell'esperienza ha dato il via ad una serie di divisioni, di lacerazioni che hanno avuto un'onda lunga sino al 2006-2008. Ora basta. Io non sono più disponibile a nessuna forma di divisione. Lei infatti si è speso molto in tutti questi anni, ed è noto, per mettere insieme tutte le formazioni a sinistra. Ma questa è un'impresa bella ma impossibile, direbbero, o no? Mission Impossible. Diciamo che per sposarsi bisogna sempre essere in due, se no è uno stupro. E quindi è molto difficile. Io sono pronto, ci ho lavorato tanto. Spero di riuscire a fare un centro-sinistra per le prossime elezioni, perché se non c'è un centro-sinistra, la sinistra da sola, la maggioranza se la sogna. E io vorrei provare a vincere, non soltanto a partecipare. Anche il centro-destra farà le primarie. Secondo lei la figura che verrà fuori da queste primarie sarà molto berlusconiana o molto poco berlusconiana? Ma lei è davvero convinto che fanno le primarie? A oggi questo è quello che si arrugge. Con la ridiscesa in campo del padre padrone le primarie non hanno senso. O sono finte, cioè lui ha deciso già chi sarà il successore, oppure sono delle primarie che hanno già incoronato il capo, cioè Berlusconi medesimo. Quindi secondo me alla fine non le faranno. Momento del mappamondo, rito del programma. Provi a girarlo per dirci dove vuole andare in un viaggio che può essere una metafora o che può essere molto concreto. No, guardi, è concretissimo. Il Vietnam, qui, dove mi recherò tra un mese e mezzo, ci sono state una gran quantità di volte, tra le varie attività che mi è capitato di svolgere e tuttora svolgo, è quella di presidente proprio dell'Istituto per le relazioni italo-vietanamite. Vado per lavoro ma vado anche per piacere, nel senso che il Vietnam è uno dei posti più belli della terra. Invece la sua prossima fermata nella politica o nella professione, nell'insegnamento, quale sarà? Se c'è un sogno che in qualche modo da tempo accarezza e non è riuscito ancora a realizzare? Eh, riposarmi. Da tempo lo accarezzo e non riesco a farlo, nel senso che faccio un sacco di cose, lavoro come una bestia. E la prossima fermata, come dice la parola stessa, è quella di fermarsi, quella di trovare un attimo di respiro, ma tanto so già che se mi fermassi senza lavorare tutte le ore che lavoro e facendo le tante cose che faccio, dopo i primi tre giorni mi annoierai terribilmente, quindi più che una fermata è una sosta. Invece l'insegnamento di istituzioni di diritto romano con i giovani, con i ragazzi, che tipo di studenti trova? Perché i giovani sono molto criticati oggi, lei si associa a questo quello di critica? Nemmeno per sogno, io ho grandissima fiducia nei giovani e devo dire che negli ultimi anni ho trovato un netto miglioramento rispetto ai disastrosi obiettivamente anni 90, i giovani sono più preparati e soprattutto sono più curiosi, le mie lezioni sono un dialogo continuo più che un monologo e ne sono davvero molto contento. Ma anche lei è curioso di ascoltare loro? Assolutamente, io tra l'altro ho fatto una cosa di cui sono particolarmente orgoglioso, io ho abolito il libro di testo, perché la mia cultura, quella che io insegno, non è in vendita, io la regalo e naturalmente la ricevo anche nel momento in cui vedo i giovani così motivati. Per concludere, la cosa più di sinistra che lei possa dire in questo momento, ma in latino qual è? Visto lo stato in cui è ridotta la sinistra, mi verrebbero due cose, la prima è Sic Transit Gloria Mundi, visto che io vengo da un partito che è il più grande partito comunista dell'Occidente e siamo ridotti così, siamo ridotti. La seconda è ancora più utilizzata di Ve Victis, guai ai vinti. Grazie dell'incontro e buon viaggio. Grazie a voi.